Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo il Vangelo di Marco, capitolo 5, versetti 21 a 43. Il nostro brano ci racconta due miracoli. Il primo miracolo, la guarigione di quella donna che aveva l'emorragia da 12 anni e poi la resurrezione della figlia di Gairo. Mentre Gesù camminava in mezzo alla folla, viene questa donna che immaginava toccare solo il mantello di Gesù per essere guarita. Avendo il flusso di sangue, è simbolo e sinonimo dell'impunità e non poteva mescolarsi a questa assemblea, non poteva anche andare al Tempio, luogo di Dio, per trovare la guarigione. Dunque comunque ha cercato proprio di infilarsi tra le persone, basta che tocchi il mantello di Gesù. E così ha fatto. Una volta toccato, ha sentito proprio la guarigione dentro di sé. Poi ha Gesù di notare che era uscita da lui una forza e chiedeva, ma chi mi ha toccato? Beh, tra questa folla è normale che ci sia qualcuno che ci tocchi e così via. Ma Gesù sapeva che qualcosa altro è successa. E la donna, impaurita, si presentò a Gesù per dire, ecco, guarda Signore, ecco, è successo a me così e così. Gesù ha detto, la tua fede ti ha guarito, diciamo. Ecco, sia guarita dal tuo male, dice Gesù, alla donna. Mentre questo evento passa, già all'inizio, già io aveva invitato Gesù di scendere a casa sua perché la figlia stava male. E mentre Gesù conversa con la donna, arriva una brutta notizia che la figlia è morta. E ma Gesù scende comunque con lui per giustamente guarire questa, o risuscitare questa ragazza. Nonostante le cattive notizie, Gesù disse a Gairo, tu continui ad avere fede, non devi smettere di avere fede. Arrivando a casa, Gesù ha risuscitato la figlioletta e chiese di dare da mangiare a lei. Ecco, allora, il tema del nostro brano è la morte e la vita. La morte e la vita, perché Gesù è la resurrezione. La resurrezione e la vita, dice Giovanni XI. E perché diamo questo tema al nostro brano? Perché la signora da dodici anni aveva la perdita di sangue. Perdere il sangue vuol dire perdere la vita, perché il sangue è la vita. Perché per togliere la vita, quando si uccide un animale, si versa il sangue e si toglie la vita. La bambina era morta e poi arriverà alla resurrezione. Dunque, tutte e due persone perdono la vita, stanno perdendo la vita. O diciamo, hanno già perso la vita, sono quasi morte tutte e due. Ma Gesù viene a risuscitare ciascuna di loro. Alla signora dà la vita, dunque la guarigione, alla bambina proprio la resurrezione. E entrando nella teologia di Marco, usando sempre il suo segreto messianico, Marco vorrebbe invitarci a capire che questo gesto si compirà alla resurrezione di Cristo stesso. Ma intanto il regno di Dio è in mezzo a noi. Allora, carissimi, stamattina Gesù vorrebbe fare, o sta facendo a ciascuno di noi, l'invito che ha fatto a Gairo, tu continua ad avere fede. Perché anche noi stiamo perdendo la vita, nel senso che davanti a questi eventi della nostra vita siamo scoraggiati, demoralizzati, abbattuti, crollati. Non sappiamo dove sbattere la testa, dunque siamo quasi morti anche noi. Però Gesù dice, no, continuate ad avere fede. Non perdete la vostra fede. Non perdete la vostra fede. Continuate. Anche se abbiamo l'impressione che Dio non ci ascolta, Dio non esaudisce le nostre preghiere, e Dio è lontano da noi, Dio ci ha abbandonato, Dio di qua, Dio di là, ma Gesù sta dicendo, continuiamo ad avere la fede, solo con la fede che noi potremo ritrovare la vita. Potremo trovare la speranza, il coraggio, e potremo trovare veramente la fede è forte. Continuiamo ad avere questa fede, nulla, ci sarà impossibile, perché colui che crede vedrà le meraviglie del Signore, dirà Gesù a Marta nel capitolo 11 di Giovanni. vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.